Quanti trafiletti sono usciti su di lei direttrice del CERN? Nessuno ne parla, perché i successi del paese non vanno bene, perché se aumentano di 153 mila i posti di lavoro non si deve dire, perché se ci sono delle aziende straordinarie nel sud come nel nord che funzionano non bisogna dirlo. Noi siamo abituati da un cliché costante a dire che l'Italia è un insieme di sfighe. L'idea dominante che noi abbiamo nel nostro paese è che l'Italia basta accendere il classico format italiano in fuga all'estero, il cervello è all'estero, come se tutti quelli che sono rimasti qua fossero, come dire, noi siamo dei pancreas, tutti i cervelli sono tutti via. Ma è legittimo che uno se ne vada se se ne vuole andare ed è bello che torni se se ne vuole tornare, ma diamo la libertà di pensare che chi rimane qui non è uno zuccone e chi se ne va è bravo e viceversa. Magari mi è capitato a me di incontrare in alcune città del mondo gente che dice sono un cervello all'estero, cosa fai? Nulla. Ma è legittimo. Però il racconto tipico del format televisivo è l'Italia è un insieme di sfighe, le cose non funzionano. Viceversa gli altri cose rispondono, i ristoranti sono pieni, va tutto bene. No, non è così. C'è bisogno di dire con chiarezza che noi dobbiamo cambiare il nostro paese e lo dobbiamo fare non perché ce lo chiede qualcuno dall'esterno, ma perché è giusto. Perché c'è un concetto di giusto. È giusto cambiare l'Italia. È giusto cambiare il sistema fiscale?